Grazie Vincenzo, grazie a voi di essere intervenuti. Cercheremo di fare una cosa abbastanza, non sarà una lezione spero, sarà una sorta di intrattenimento su che cosa sarà il vostro futuro più che il mio. Cercheremo di vedere che cosa potrà accadere da un punto di vista però molto concreto, molto solido. Allora prima di fare qualsiasi altra considerazione, chi sono quelli dello scientifico e chi quelli del classico? Voi siete? Conoscete lo scrittore Primo Levi? Tutti? Tutti bene? Bene, ottimo. Allora perché ho fatto questa domanda? Perché per raccontare il futuro partirò dal passato e partirò dal passato prendendo punto spunto da Primo Levi. Cosa c'entra Primo Levi? Allora sapete Primo Levi lo conoscete sicuramente per i suoi libri sui campi di concentramento, diciamo se questo è un uomo, la tregua, ne ha scritti però anche altri che sono meno noti. Uno bellissimo è il sistema periodico che è diciamo un libro in cui racconta la sua esperienza di chimico, Levi era un chimico, ma ci sono poi questi due libri di cui probabilmente non avete sentito il nome, che si chiamano Storie Naturali e Vizio di Forma, sono delle raccolte di racconti scritte negli anni 60. Allora vi garantisco che negli anni 60, insomma era un po' di tempo fa, e lui questi racconti un po' di fantascienza, un po' di fantasia, li ha scritti non tanto come dei divertimenti o delle diciamo provocazioni, ma sostanzialmente per avvertirci su alcuni rischi che erano insiti nello sviluppo della diciamo della conoscenza, ma delle tecnologie. E proveremo adesso a rileggere tre o quattro di questi racconti, a far vedere come le cose che lui ha in qualche misura previsto si sono puntualmente realizzate, e da questo cercheremo di capire, per quello che possiamo, che cosa ci aspetta. Allora il primo di questi racconti si chiama A Fin di Bene, è tratto dal Vizio di Forma, che è uno dei due libri che vi ho citato, pubblicato nel 1971. Allora vi racconto la storia brevemente, la storia è un ingegnere masoero che è responsabile della rete telefonica nazionale. A un certo punto la rete telefonica comincia ad avere dei malfunzionamenti, abbonati che vengono messi in contatto senza che abbiano mai composto un numero, oppure compone un numero e te ne risponde un altro, e comunque questa serie di malfunzionamenti peggiora col tempo, e a un certo punto devono cercare di capire che cosa sia successo. Studia un po' tutte le varie possibilità, l'unica cosa che si era verificata è che qualche settimana prima la rete telefonica nazionale era stata collegata alle reti telefoniche europee. Ed ecco che ci racconta Levi, la rete aveva raggiunto una consistenza numerica tale da comportarsi da centro nervoso, non come un cervello certo, o almeno non come un cervello intelligente. Tuttavia era in grado di eseguire qualche scelta elementare e di esercitare una minuscola volontà. La rete nel varcare la soglia della coscienza, o forse solo quella dell'autonomia, non aveva rinnegato le finalità originarie per mettere, agevolare ed accelerare le comunicazioni tra gli abbonati. Il racconto va avanti, cercano di capire sempre di più che cosa stia succedendo, ma in realtà la cosa si complica via via. La rete, ci racconta Levi, avrebbe potuto trasformarsi in un vasto e rapido organo di relazione, una specie di sterminata agenzia che avrebbe potuto soppiantare tutti i piccoli annunci di tutti i giornali d'Europa, combinando con velocità fulminea vendite, matrimoni, accordi commerciali e rapporti umani di ogni sorta. Ora questo è quello che voi fate ogni giorno, ogni minuto della vostra vita, entrando in quel mare che oggi chiamiamo internet, siete in contatto con tutti. Vi garantisco che prevedere questo o intuire qualcosa di questo genere negli anni 60 nessuno lo faceva, nessuno lo ha fatto. Se fosse andato in giro per le strade negli anni 60, aveste chiesto cosa ci sarà nel 2000, vi avrebbero risposto avremo colonizzato la Luna, avremo colonizzato Marte, perché se ricordate 1969 l'uomo arriva sulla Luna e lo sviluppo delle ricerche spaziali è tale che si prevede di poter arrivare rapidamente sugli altri pianeti, cosa che invece non è avvenuta. In compenso nessuno ha previsto internet, che invece qua leggiamo molto attentamente. Ma continua Levi. Parlava ormai correttamente la rete tutte le lingue ufficiali e vari dialetti, evidentemente attingendo lessico, sintassi e inflessioni dalle innumerevoli conversazioni che essa intercettava senza sostra. Si intrometteva dando consigli non richiesti anche sugli argomenti più intimi riservati. Riferiva terzi, dati e fatti casualmente appresi. Ora anche questo è qualcosa che noi stiamo vivendo oggi praticamente quotidianamente, ma leggete questa frase, parlava correttamente tutte le lingue ufficiali, cioè vari dialetti, intercettando delle comunicazioni. Ma questo è il concetto di quello che oggi chiamiamo machine learning, l'autoapprendimento, l'intelligenza artificiale. Quindi questo racconto, che poi prosegue e vi invito a leggere di persona, ci introduce questo tema importantissimo di cui oggi si parla moltissimo, dell'intelligenza artificiale. Che cosa è successo dall'epoca di Levi quando ha pensato queste cose? Non c'era neanche il personal computer quando Levi ha scritto questi racconti. Bene, nel 1996 per la prima volta un computer, questo era Big Blue di IBM, ha battuto un giocatore di scacchi che era Kasparov, il più grande giocatore al mondo di scacchi. Questo è considerato un po' un punto, diciamo, un punto storico, perché è la prima volta che un computer batte un umano in un gioco che è considerato un gioco di abilità anche, diciamo, intellettuale che sono gli scacchi. Ma come ha fatto il computer a battere il giocatore più forte al mondo? Lo ha fatto calcolando tutte le possibili mosse molto più rapidamente di quanto qualsiasi umano potesse fare. Cioè l'ha battuto non in intelligenza, ma in velocità. Attenzione perché passano solo 20 anni e nel 2015, quindi arriviamo a un'era in cui voi c'eravate bene, eravate già presenti, succede questo. Un altro algoritmo, un altro software, questa volta si chiama AlphaGo, sviluppato da Google, batte il più grande giocatore al mondo di un gioco che si chiama Go. È un gioco cinese, noi non lo conosciamo, il giocatore si chiama Fanhui. Questo gioco ha un numero enorme di pedine e c'è chi ha calcolato che le combinazioni possibili siano dell'ordine di 10 alla centosettantesima. Ora, 10 alla centosettantesima è un numero infinito. Pensate che tutti gli atomi dell'universo sono circa 10 alla ottantesima. Nessun computer può calcolare tutte le mosse possibili, perché è impossibile. Il computer per battere Fanhui ha dovuto imparare a giocare. Gli sono state mostrate migliaia di partite, ha sviluppato una sua strategia autonoma ed ha alla fine battuto il più grande giocatore al mondo. Ecco che l'intelligenza artificiale diventa qualche cosa di assai concreto. E non voglio adesso entrare in questo tema, magari ne parleremo dopo, ci sono tantissimi argomenti, tantissime cose, se ne parla molti in questi giorni. Però una cosa dobbiamo fare, una considerazione. Se noi siamo sapiens, quindi appartigliamo questa specie, questo genere che esiste da circa 200 mila anni. In questi 200 mila anni abbiamo sostanzialmente sterminato tutte le specie che c'erano attorno a noi, perché c'erano varie altre specie di ominini che in qualche modo giravano per le savane, li abbiamo fatti fuori tutti. Abbiamo anche assoggettato a noi gran parte delle specie animali e vegetali, cioè siamo i dominatori del mondo. Se siamo diventati i dominatori del mondo non è perché corriamo più veloci o resistiamo meglio alle temperature rigide o siamo più feroci, ma siamo più intelligenti. Se un domani ci dovesse essere un'intelligenza artificiale più intelligente di noi, allora il problema diciamo si pone, perché se noi siamo arrivati a essere quello che siamo, lo siamo grazie al nostro cervello. Su questo tema c'è un aspetto di cui voglio solo fare un bellissimo accenno, che oltre allo sviluppo degli algoritmi c'è lo sviluppo delle capacità di calcolo. Non so se avete mai sentito parlare di questa cosa, il computer quantistico. Quanti di voi ne hanno sentito parlare? Pochissimi. Bene, tra un po' vedrete che tra qualche anno, una decina, quindicina di anni, tutti saprete che cos'è un computer quantistico perché quello sarà quello che userete. È un concetto completamente radicalmente diverso di fare calcolo ed è diciamo basato su dei principi che non sto qua ad elencare, ma questa slide, da quando ho cominciato a fare questa presentazione all'inizio di quest'anno, l'ho già dovuto cambiare tre volte. Perché? Perché lo sviluppo è così rapido che ogni 3-4 mesi devo cambiarla. L'ultima volta che l'ho cambiata è perché la rivista Nature, una rivista molto importante, ha pubblicato a fine ottobre l'annuncio del fatto che un computer quantistico di Google ha raggiunto la quantum supremacy. Cosa vuol dire? È diventato più potente del più potente calcolatore oggi esistente al mondo basato sui transistor, quelli che usiamo noi tutti. Quindi le capacità di calcolo sono destinate a cambiare in modo radicale. Vediamo adesso un secondo racconto, uno di quelli che mi ha sempre affascinato di più, il cui nome e il titolo è L'Ordine a Buon Mercato e qui la chimica entra in modo diretto e pesante. Vi racconto la storia perché è molto carina. In questi racconti spesso il protagonista è un tale signor Simpson che è un venditore di macchine di una società americana, si chiama la Natca. Queste macchine sono macchine fantastiche, macchine diciamo ipermoderne. Quella di cui sta parlando questo signor Simpson all'amico Gilberto, o cliente meglio diciamo Gilberto, si chiama Mimete. E che cos'è? È un duplicatore. Cosa vuol dire un duplicatore? È una macchina dove tu metti un foglio e la macchina, attingendo a degli elementi chimici da alcune bombole, lo riproduce tal quale nel comparto adiacente. Leggiamo. Il Mimete ricreava in tutto e per tutto il documento le sue imperfezioni, le fibre e le accelerazioni, le macchie in un processo di duplicazione in cui nell'esatta posizione di un singolo atomo del modello viene fissato un atomo analogo estratto dalla miscela di alimentazione. Carbonio dove era carbonio, azoto dove era azoto e così via. Si trattava veramente di una tecnica rivoluzionaria. La sintesi organica a bassa temperatura, l'ordine dal disordine, in silenzio, rapidamente e a buon mercato. Il sogno di quattro generazioni di chimici. Insomma è una macchina che in qualche misura, diciamo, interpreta, legge che cosa c'è da una parte, lo traduce in un progetto che riproduce dall'altra parte. Gilberto si fa lasciare la macchina entusiasta e comincia a giocare. Prende un orario ferroviario, lo mette nel comparto A e viene riprodotto dall'altra parte nel comparto B. Prende un dado e lo duplica. E leggiamo, scusate, e leggiamo. Dice, introdussi il dado nella cella A ed attraverso il vetro osservai con attenzione quanto avveniva nella cella B durante la duplicazione. Il dado si formava gradualmente a partire dal basso per sottilissimi strati sovrapposti come se crescense dal fondo della cella. Vi ricorda qualcosa? Bravissimi, la stampante 3D. Questa è in due parole, in due righe, la definizione, la descrizione di come funziona la stampante 3D. Ed è una delle rivoluzioni che sta avvenendo nel mondo di produrre, nel modo di produrre le cose, che trasformerà completamente il mondo in cui abidiamo. Noi oggi produciamo oggetti in serie, tanti pezzi che poi vengono distribuiti ai vari negozi, alle varie, diciamo, catene. Invece tra un po' non ci sarà molto bisogno di questo. Uno avrà, diciamo, vedrà un bel vaso a casa di un amico, farà una foto, una scansione e questa verrà mandata a un punto dove verrà prodotto il vaso che gli interessa e verrà, se lo porterà a casa, diciamo esattamente udentico a quello che ha visto. Quindi è un modo di produrre le cose completamente diverso. Ma torniamo al racconto. Perché Gilberto è un uomo, è curioso. Dopo che ha dipulicato, diciamo, l'orario forviario, il dado, lo fa anche con dei diamanti, gli viene molto bene. Però, diciamo, non vuole fermarsi a quello. Che cosa pensa di fare? Che cosa farebbe uno di voi se avesse uno strumento del genere? Si domanda, ma se io ci metto dentro un oggetto vivo, una qualche animale funzionerà, ecco che prende una mosca e in effetti duplica una mosca. Prende una lucertola intorpidita in giardino e la lucertola viene riprodotta nella secondo comparto. Ma muore poco dopo, ha le ossa molli, si rende conto che mancano degli elementi chimici e quindi si fa spedire dei nuovi elementi, modifica la macchina, va in garage, ne fa un prototipo particolarmente grande e pronto al grande balzo. È, diciamo, pronto a duplicare una persona, ma non so, ma non sa chi duplicare, diciamo, e questo appunto, ci penso un po', e poi dice di duplicare la moglie, l'amatissima moglie Emma, e quindi la addormenta, le dà del sonnifero e vediamo cosa succede. La duplica era nata dormendo, poiché il mimete aveva duplicato anche il sonnifero che correva per le vene di Emma prima e si era svegliata sapendo di essere Emma perose in gatti, unica moglie del ragioniere Gilberto Gatti. Ricordava bene tutto quanto Emma prima ricordava bene e male tutto quanto Emma prima ricordava male. Per Gilberto, questo entusiasta personaggio comincia una vita fantastica, ha due mogli ad essere contento, le due mogli per un po' vanno d'accordo, poi cominciano un pochettino a diversificarsi, i loro gusti si, diciamo, diventano un po' di... e la vita comincia a diventare più complicata. La complicata diventa molto complicata, poi diventa un inferno e morale a un certo punto Gilberto sparisce dalla circolazione, gli amici non sanno più dov'è. Finché dopo un po' di mesi uno lo incontra per strada e dice, ah Gilberto è tanto che non ti vedo, come va? Ah dice, Gilberto è un genio, ma dico vedo che sei diventato modesto. No, no, dice Gilberto primo, io gli somiglio parecchio, esisto soltanto da sabato scorso perché mi sono duplicato anch'io e così adesso siamo diventati due Gilberto e due M e siamo tornati in parità. Finisce il racconto. Perché vi racconto questa storia? Perché Levi non raccontava e non scriveva queste cose a casaccio. Lui era un grande lettore di, diciamo, di scienza divulgativa, ma anche non solo divulgativa. Cioè, che cosa contiene questo racconto? Questo racconto contiene il concetto di poter duplicare della materia vivente, d'accordo? E a che punto siamo su questa strada? Allora, vi ho raccontato della stampa 3D. Bene, questa si chiama biostampa 3D. In che cosa consiste la biostampa 3D? Anziché stampare materia inanimata, si stampano delle cellule, cioè vengono deposte delle cellule che poi crescono e possiamo far crescere con queste tecnologie oggi delle parti di organi. Non so se avete sentito qualche settimana fa di un ragazzo di Firenze a cui è stato ricostruito l'orecchio, aveva una malformazione, usando una cartilagine che è stata stampata con una biostampante 3D. Cioè, si possono oggi stampare parti di reni, parti di ossa e in futuro interi organi che verranno, diciamo, essere disponibili al posto dei tre pianti. Qui ci sono tutta una serie di tecnologie, cioè quindi queste tecnologie stanno sviluppandosi, ma c'è un altro aspetto molto importante. Quando Gilberto duplica una persona e la fa identica a se stessa, ma questo è il concetto di clonazione. Non so se avete mai sentito parlare. Bene, la clonazione è prendere un organismo vivente e riprodurlo col patrimonio genetico identico, cosa che è stata fatta per la prima volta nei mammiferi del 1996 con una famosa pecora che si chiamava Dolly. Ma 20 anni dopo, del 2018, sono state, diciamo, clonate delle scimmie, quelle due scimmiette che vedete lì. Che vuol dire? Che il passo, diciamo, per la clonazione da un primate alla clonazione dell'uomo, tecnicamente molto vicino. Ora, la domanda è, ci serve duplicare e clonare un uomo? Io non vorrei avere un clone mio, sono io già sufficiente da questo punto di vista. però vedete che ci sono delle interrogativi importanti che ci stanno arrivando in qualche modo incontro. Veniamo al terzo racconto che voglio, diciamo, descrivere e questo racconto di nuovo tratto dal libro Vizio di Forma si chiama I sintetici. Allora, il protagonista si chiama Mario ed è un ragazzo della vostra età, forse poco più giovane. Mario è il primo della classe, diciamo, è molto brillante, ma ha, diciamo, un problema. Qual è il problema? Che quando ci fa, fa ginnastica, non gli piace farsi vedere mentre si spoglia, mentre si cambia. E non è perché è particolarmente pudico o cose di questo genere. Non vuole farsi vedere quanto si cambia perché gli manca l'ombelico. Allora, ecco che i suoi compagni cominciano a domandarsi, ma perché Mario ha questo comportamento? Ed ecco che parlano tra di loro, due di loro. Hai mai sentito parlare della pillola e della provetta e della siringa? Bene, è così che è nato Mario e diversi altri come lui. Non è nato in un ospedale, ma in un laboratorio. È una specie di incubatrice come quelle per i pulcini, con dentro tante provette. Mettono delle pillole nelle provette, rosse per avere dei maschi e blu per avere delle femmine. Proseguono i due amici. Hanno una specie di codice, insomma come un menù, dove i genitori, ma non sono proprio i genitori, insomma l'uomo e la donna che vogliono avere il figlio, scelgono gli occhi, i capelli, il naso e tutti i dettagli. Bene, questo racconto è scritto assai prima del primo caso di fecondazione artificiale che ci sia stato al mondo, cioè di fatto una fecondazione che fino a quel momento era sempre avvenuto semplicemente attraverso l'accoppiamento di un uomo con una donna, cosa che adesso di fatto non è più necessaria. E aprendo tutta una serie di scenari soprattutto su come eventualmente poter scegliere addirittura le caratteristiche dei nascituri, cosa che fino a 30-40 anni fa erano impensabili. La storia va avanti perché Mario sente che l'ambiente attorno a sé è cambiato, peggiore il suo rendimento scolastico. L'insegnante lo chiama per capire perché, diciamo, qual è il suo disagio. E gli chiede, non sei come gli altri? Ma perché? In che cosa ti senti diverso? Rispose l'insegnante. Se mai sarei diverso in meglio, se tu fossi l'ultimo della classe. Non è questo. Io sono diverso perché sono nato diverso. Sei nato come? Sono sintetico. E questo conclude il racconto. Il racconto si chiama i sintetici. Il ragazzo dice sono sintetico. Che cosa vuol dire? Che cosa ci vuole trasmettere Levi? Allora, negli anni 50, nel 1554, viene scoperta la struttura di questa famosa molecola particolarissima che è il DNA a doppia elica. E che cosa si scopre? Si scopre negli anni 60, quindi quando Levi scrive questi racconti, che il DNA non è altro che un libretto di istruzioni. È la sequenza di informazioni, di istruzioni che ci fa, diciamo, continuamente esistere, replicando una serie di funzioni che il nostro organismo biologico fa, ma in maniera piuttosto ripetitiva. Quando voi fate il bucato, e non penso che facciate il bucato, però se fate il bucato, andate sulla lavatrice e impostate un programma. Quello è un semplicissimo, se è una serie di istruzioni, che la macchina ripete e rifà. Se rifà un altro bucato, fa lo stessa cosa. Le nostre cellule così funzionano, solo che il programma è molto più complicato. Ed è contenuto a tutto il numero di istruzioni in questo oggetto particolare che è il DNA. È all'interno di queste sequenze, diciamo, particolari, all'interno del DNA che si chiamano geni. E i geni sono, insomma, le frasi che contiene il nostro libretto di istruzioni. E all'interno del nostro DNA ci sono da 20 a 25 mila geni. Allora, per sapere quali sono le istruzioni che regolano la nostra vita, bisogna metterli in fila, sapere cosa c'è scritto dentro. E questo è come prendere, prendete 20 mila frasi, buttateli in un secchio alla rinfusa e rimetteteli insieme dalla prima all'ultima a fare un romanzo con una serie, con un senso compiuto. Non è un'operazione semplice, giusto? Bene, questo è quello che è stato fatto negli anni dal 90 al 2000, con quel grande progetto che si è chiamato sequenziamento del genoma umano. Un progetto che all'inizio sembrava impossibile perché era una sfida assolutamente inconcepibile, tanto che all'inizio stava quasi per essere abbandonato, perché i progressi erano lentissimi. Però poi nel giro di un po' di anni il progetto è partito e a fine degli anni 2000, nel 2001, c'è stato l'annuncio del sequenziamento del genoma umano. Qui vedete Bill Clinton che annuncia l'avvenuta, diciamo, sequenziamento del genoma, perché è una pietra miliare nella storia dell'umanità, io credo anche più importante dell'arrivo sulla Luna. Perché? Perché conoscere, diciamo, la posizione dei geni, ancora non abbiamo capito la loro funzione in gran parte, tutti questi geni che cosa fanno molti non lo sappiamo ancora, ma sta aprendo la strada a conoscere il libretto di istruzioni. E se io conosco il libretto di istruzioni, posso cambiare le istruzioni. Questo grafico che vi fa vedere che cos'è questa cosa qui, è il costo di sequenziare un genoma umano da quando è stato fatto il primo caso, nel 2001, 100 milioni di dollari, l'investimento che c'è stato per fare la prima operazione di sequenziare un genoma umano. Poi sono state messe a prodotto le procedure sempre più automatizzate, oggi costa meno di 1000 dollari sequenziare un genoma. Cosa vuol dire? Che se voi volete andate su uno di questi siti internet, potete, non fatelo però, spedete un campione della vostra saliva, dovete pagare anche 1000 dollari, però diciamo questo è l'unico freno, e vi verrà ritornato il vostro genoma sequenziato. Cosa vuol dire? Ci sarà scritto se avete delle possibilità di ingerenza, di insorgenza di malattie genetiche, perché magari ho avuto un antenato che aveva un gene diciamo malfunzionante, cosa che è del tutto ininfluente, perché la cosa può rimanere lì, silente per sempre, però il fatto di saperlo magari comincia da un certo punto di vista, mi dà degli strumenti di difesa, ma degli altri mi potrebbe creare dei problemi che in realtà non esistono, insomma questa cosa sta diventando comune, ormai sono milioni di persone che si fanno sequenziare il genoma senza l'intermediazione di un medico, è piuttosto pericoloso. Ma ci sono altri aspetti molto importanti, spesso sui giornali si parla di cose poco rilevanti per la nostra vita e il nostro futuro e si ignorano quelle invece fondamentali. Nel 2013 avete sentito tutti parlare del bosone di Higgs, è stata la grande scoperta, tutti lo sanno, anche diciamo importantissima dal punto di vista concettuale e dal punto di vista della conoscenza di base. Però nel 2013, lo stesso anno, veniva pubblicato questo lavoro su Science, che è questa tecnica dal nome impronunciabile, CRISP-Cas9. Vi dico soltanto che è una tecnica che permette di modificare il DNA tagliando un gene, cioè di fatto tagliando un pezzo di istruzioni e mettendone un'altra. Questa tecnica è stata resa ancora più sofisticata, di nuovo le cose cambiano rapidamente, proprio nell'ottobre del 2019 è stata introdotta un'altra tecnica ancora più sofisticata e ancora più precisa ed ecco che noi possiamo oggi modificare il genoma, modificare il libretto di istruzioni. Questo ovviamente ha delle importantissime, diciamo, conseguenze. Già 3-4 anni dopo, questo un lavoro sempre pubblicato su una rivista molto importante, la rivista Nature, dove di nuovo questa tecnica è stata usata effettivamente per modificare il genoma di embrioni umani. C'erano degli embrioni, c'era il DNA rapportatore di una malattia cardiaca, cioè c'era un problema genetico, questo gene è stato rimosso, quindi questo problema è stato tolto, ma gli embrioni sono stati soppressi, perché l'attuale legislazione e le regole etiche impediscono di portare a sviluppo un umano con un genoma, con un DNA modificato, perché non sappiamo che cosa questo potrebbe comportare. Però, non so se l'avete sentito, un anno fa esattamente è stato annunciato da un ricercatore cinese di aver fatto nascere due gemelle col patrimonio genetico modificato, quindi ci sono già due sapiens per la prima volta nella storia dell'umanità che hanno un patrimonio genetico, un DNA modificato da altri sapiens. Le conseguenze al momento non sono chiare. E poi vi faccio vedere questa cosa, come ha intitolato Levi il suo racconto, vita sintetica. Bene, questo è un lavoro pubblicato su un'altra rivista molto importante, science, dove un batterio è stato prodotto integralmente in laboratorio, è stato progettato al computer, sono stati presi gli aminoacidi fondamentali per, diciamo, sintetizzare il suo genoma, il suo DNA, è stato clonato, isolato, traspiantato, se viene alimentato si riproduce. Ha un genoma semplicissimo, vi ho detto che il nostro contiene 20-25 mila geni, qua ne parliamo di meno di 500, quindi è molto semplice, ma di fatto è interamente sintetico. E veniamo all'ultimo racconto che chiude il libro Storie Naturali del 1966 e che si chiama Trattamento di Cuescenza. Trattamento di Cuescenza è un racconto molto interessante che tocca vari temi. Allora, il primo, c'è di nuovo tornato il nostro signor Simpson, ricordate quello del racconto precedente, che ha una nuova macchina portentosa, o più di una in realtà, racconta il primario di questo che si chiama Landrak. Che cos'è Landrak? Dice Levi nel suo racconto. Landrak, in realtà che parla il signor Simpson, è un congegno rivoluzionario. Si fonda su una comunicazione diretta fra i circuiti nervosi e i circuiti elettronici. Sottoponendosi a un piccolo intervento chirurgico è possibile, ad esempio, azionare una telescrivente o guidare un'auto solo mediante impulsi nervosi, senza l'intervento di muscoli. Capite cosa sta descrivendo Levi? Sta descrivendo degli elettrodi impiantati in certe zone del cervello con cui uno, anziché comandare degli arti, vado avanti, vado indietro, comanda delle cose che stanno fuori, collegate elettricamente. Anche qui la questione è cosa è successo? Allora, negli anni, diciamo, dall'epoca in cui Levi scriveva ad oggi, abbiamo avuto degli sviluppi enormi nell'elettronica, sapete, tutto quello che sono i computer, internet, sono tutti figli di un'elettronica sempre più potente, sempre più miniaturizzata, che adesso sta diventando anche flessibile, biocompatibile e sempre più integrabile nel corpo umano. Cioè noi, già oggi, ci sono vari dispositivi elettronici che possono essere integrati nel corpo umano. Io non lo sapevo fino a poco tempo fa, ma adesso ho scoperto che ci sono 300.000 persone al mondo che hanno riacquistato l'udito grazie a un impianto elettronico cocleare, al posto di una parte dell'orecchio che si chiama la coclea c'è questo microchip. Ci sono tantissime funzioni che possono essere riacquistate in questo modo. Ci sono delle persone, e sono in crescita fortissima nei paesi nordici, che si fanno impiantare dei microchip sotto pelle, perché così al posto di avere riconoscimento, cioè avere delle chiavi di casa, si fanno riconoscere quando entrano in casa da un lettore, diciamo, di un codice. Ora io preferisco avere le chiavi, certo che quelle le puoi perdere, quello lì magari non le perdi, però insomma vedete che le cose potrebbero essere, se ti devono tagliare il braccio, esatto, ci sarebbe quel rischio lì. Comunque, diciamo, le cose si sono sviluppate e c'è molto, ci sono aspetti estremamente positivi. Se avete perso delle funzioni, ci sono delle persone paraplegiche che hanno imparato con un certo esercizio a comandare quello che si chiama degli esoscheletri, cioè praticamente persone che sarebbero paralizzate, incapaci di muoversi, di stare in piedi, hanno degli esoscheletri che si muovono semplicemente comandati con gli impulsi cerebrali. E questo capite che per una persona che è paralizzata è estremamente importante. Ma oltre al recupero di funzioni perdute, c'è l'aspetto dell'acquisto di funzioni nuove. E qui entriamo in un campo, anche qui, fantascienza, non tanto, faccio solo un esempio. Questo è un riferimento recentissimo dove a dei topi è stata, diciamo, conferita la visione notturna. Noi vediamo, grazie a una sostanza che abbiamo sulla retina, delle sostanze che sono fotosensibili che abbiamo sulla retina, ma sono sensibili alla luce visibile, per quello che noi le chiamo visibili, perché la vediamo. Utilizzando delle particelle, delle nanoparticelle poste sulla retina, questi topi sono diventati in grado di captare anche la radiazione infrarossa, che è quella che emettono, ad esempio, i corpi caldi e quindi permettono di muoversi di notte in maniera più agevole. I visori infrarossi dei soldati che vedete nei film sono basati su questo principio. Domani vedremo anche nell'infrarosso, non lo so, ma è possibile. Le relazioni tra macchina e cervello hanno avuto negli ultimi 15-20 anni degli sviluppi straordinari. Qui vedete una pratica che magari per gli studenti potrebbe essere molto interessante, cioè si chiama Electrical Transcranial Direct Stimulation, cioè di fatto si è scoperto che applicando delle basse correnti al cervello si possono avere dei miglioramenti di capacità cognitive, addirittura si può apprendere più in fretta. Sono esperimenti che ancora richiedono di essere verificati, però capite che sarebbe piuttosto carino andare a letto magari con una piccola, diciamo, circuito elettrico applicato al cervello e domani sapere la lezione. Non so se sarà così, però vediamo. In realtà, come vi dicevo, l'idea di Levi di questo oggetto che si chiama Landrak, questi elettrodi impiantati nel cervello, è diventata realtà e persone paraplegiche possono, ma anche scimmie, cioè esperimenti che sono stati fatti su animali, che sono in grado di comandare un braccio robotico semplicemente con la forza del pensiero. Ovviamente, se io dal cervello posso trasmettere degli impulsi a un computer e col computer, diciamo, manovrare un braccio robotico, si può fare anche il contrario, cioè da un computer all'esterno posso comandare, posso, diciamo, dare degli impulsi a un cervello, giusto? Anche questo è stato fatto, è stato fatto e questi sono dei topi, si chiamano Roborat, ai cui sono stati impiantati degli elettrodi, in particolari zone del cervello, responsabili per certe funzioni e sono stati radiocomandati, cioè gli è stato detto di fare cose che a un topo generalmente non piace fare, come gettarsi da una certa altezza, ma addirittura avere sensazioni di appagamento, non ho più fame, non ho più, diciamo, oppure di piacere, capite? Senza che questi fossero stimolati o diciamo che fossero reali. E d'altra parte il nostro cervello è un insieme di impulsi elettrici, trasmesso da miliardi e miliardi di neuroni. Ci stiamo addentrando dentro quella che è, diciamo, la essenza dell'essere umano. Veniamo alla seconda parte del racconto, perché la seconda parte del racconto tratta di un altro oggetto che si chiama il Torec e il Torec, come dice, come leggiamo, dice non esige nessun intervento cruento. La trasmissione delle sensazioni registrate sui nastri avviene attraverso elettrodi cutanei, cioè uno si mette degli elettrodi applicati semplicemente. Il fruitore non ha che da indossare un casco e durante lo svolgimento del nastro riceve l'intera e ordinata serie di sensazioni che il nastro stesso contiene. Sensazioni visive, auditive, tattile, olfattive, gustative, cenestetiche e dolorose. Che cos'è questo oggetto? È un casco dove di fatto si rivive l'esperienza di una persona che prima di voi lo ha registrata sul nastro nel momento in cui la sperimentava. Il racconto è bellissimo e ci sono tutta una serie di cose, perché il signor Simpson dice all'amico sto, prova questo nastro, no? C'è questo nastro della serie sport. Allora lui si mette il casco e si ritrova in un catino di gente ululante e di famare la caviglia su un prato verde, vede uno con la maglia dello stesso colore sua che calcia dalla destra una palla, lui si lancia di impeto, tira di sinistro, incocca la palla, fa gol e sente diciamo lo stadio esplodere e lui una scarica di adrenalina che attraversa il corpo e si ritrova seduto in poltrona. cosa ha fatto? Aveva vissuto l'esperienza, che penso che nessuno di voi abbia mai vissuto, di segnare un gol in serie A. Esperienza che un giocatore di calcio effettivamente aveva registrato sul nastro e che poi dopo è stata fatta rivivere. Il racconto va avanti e ci sono tantissime altre storie, è molto divertente, per esempio a un certo punto dice toh prova questo nastro della serie gialla, serie Epicuro. Si mette il nastro, si ritrova in un deserto con una sete pazzesca. Sono tre giorni che non beve, ma sa di essere un disoccupato cronico di Salt Lake City che è stato pagato per non bere per tre giorni, ma sa anche che tra un po' gli diranno finalmente l'ok e potrà finalmente bere. Quindi la sofferenza del bere è reale, quello che sta provando, ma a un certo punto finalmente ecco che può andare al pozzo a beverarsi di acqua fresca e dice Levi il piacere di ripristinare la pressione osmotica. Epicuro perché diciamo il piacere è che viene dopo una sofferenza. E così va avanti, gli fa provare nastri che sono stati registrati su delle acquile, su degli animali, tante cose, divertentissimo. Però gli dice guarda non ti faccio provare questi nastri che sono quelli della serie nera perché sono stati registrati su persone con dei squilibri psichici, cose non ancora testate. Perché Levi fa questo racconto e che cosa ci introduce? Bene, questa è una cosa che credo voi conosciate piuttosto bene, si chiama realtà virtuale. E la realtà virtuale è una cosa su cui molto cinicamente le grandi compagnie tipo Facebook eccetera stanno investendo milioni e milioni di dollari. Per quale ragione? Perché l'intelligenza artificiale è destinata a far sparire una certa serie di lavori di bassa manovolanza, di basso livello perché le macchine le faranno meglio. Ci sarà quindi un numero crescente di persone con un fracco di tempo libero. E che cosa diamo da fare a queste persone nel loro tempo libero? Beh, la droga elettronica che è stata usata in questo secolo si chiama televisione. La droga elettronica che ci sarà nel passato secolo in questo secolo si chiama realtà virtuale. E la realtà virtuale è molto più pericolosa della televisione. Perché? Perché in qualche modo vi immerge in esperienze totalizzanti. Vi sembra di essere totalmente immersi in una realtà. Vediamo come conclude il racconto Levi. Povero Simpson. Temo che per lui sia finita. Dopo tanti anni di fedele servizio per la Natca, la ultima macchina Natca lo ha sconfitto. Proprio quella che gli avrebbe dovuto assicurare una vecchiaia varia e serena. Gli ha sacrificato tutto. Le api, il lavoro, il sonno, la moglie, i libri. Il Torec non dà assofazione purtroppo. Ogni nastro può essere fruito infinite volte. Ed ogni volta la memoria genuina si spegne e si accede alla memoria d'accatto che è incisa sul nastro stesso. Perciò Simpson non prova noia durante la fruizione, ma è oppresso da una noia vasta come il mare, pesante come il mondo, quando il nastro finisce. Allora non gli resta che infilarne un altro. È passato dalle due ore quotidiane che si era prefisso a cinque, poi dieci, adesso diciotto venti. Senza Torec sarebbe perduto, col Torec è perduto ugualmente. In sei mesi è invicchiato di vent'anni. E l'ombra di se stesso. S'avvia verso la morte, lo sa e non la teme. L'è già sperimentata sei volte, in sei registrazioni diverse, registrate su sei dei nastri dalla fascia nera. Questo conclude il racconto e il libro Storie Naturali. E non è casuale. Levi intravede nelle tecnologie delle potenzialità ma anche dei rischi. E qui ci mette in guardia contro uno di questi rischi. Bene, che cosa è accaduto? Allora è accaduto che nella storia dell'umanità, da quando, sapete noi circa 200.000 anni e la storia dei sapiens, per quasi tutto il tempo siamo andati in giro nelle savane a raccogliere bacche o catturare una lepre quando era diciamo il momento di farlo, no? Poi a un certo punto abbiamo deciso di fermarci e cominciare a coltivare. Siamo diventati agricoltori. Con l'agricoltura sono nate le civiltà e con le civiltà sono nate le tecnologie. Sono nate la ruota, l'aratro, i linguaggi perché sono anche queste tecnologie. Ma all'inizio lo sviluppo delle tecnologie è stato lentissimo. Qui vedete due curve. Questa è una crescita lineare e questa si chiama crescita esponenziale. Allora vedete che la crescita esponenziale è inizialmente lentissima, più lenta della crescita lineare. Quando però comincia a diventare rapida, la crescita esponenziale vu. Nel secolo 700-800, quando nasce la rivoluzione industriale e la rivoluzione scientifica, ecco che parte la rivoluzione tecnologica ed ecco che ormai siamo arrivati nella fase ripida della nostra curva. Quindi se ci pensate bene, lo sviluppo delle tecnologie è lentissimo. Noi diciamo l'età del bronzo, l'età del rame, l'età del ferro, per noi sono collocate là in fondo, d'accordo? Sono tutte praticamente remote. Ma in realtà tra il rame e il bronzo passano 3.000 anni. 3.000 anni, cioè bisogna andare indietro agli egizi per fare la distanza che c'è tra noi e loro. Tra l'età del bronzo e l'età del ferro c'è la stessa distanza che c'è tra noi e i 12 apostoli. Quindi tempi lunghissimi, non succedeva niente in questi tempi lunghissimi. Tant'è vero, che se prendete, non so se qualcuno di voi ha visto, ma non credo, comunque con questo film che si chiama L'albero degli zoccoli di Ermanno Olmi, ma comunque la vita dei contadini all'inizio del Novecento, che è descritta in vari film, questo la scrive molto bene, era la stessa di un colono ai tempi di Giulio Cesare o di un agricoltore ai tempi dei Sumeri. Avevano le stesse preoccupazioni. La mucca parteorerà un vitello sano? Pioverà abbastanza per avere un raccolto abbondante? E via dicendo. Questa era la vita fino a cento anni fa. Oggi, se guardate qui, un impianto automatizzato di polli ne può fare due milioni e mezzo di uova al giorno. Cioè cose pazzesche, d'accordo? Tutto questo in pochissimo tempo. Ecco, questo ha una conseguenza che è una delle motivazioni per cui la nostra società è molto inquieta. Di nuovo, se ci pensate bene, i vostri bisnonni, non bisogna dare avanti molto indietro, i vostri nonni, i vostri bisnonni, venivano da un'epoca in cui la vita dei padri, dei nonni, dei bisnonni era uguale sostanzialmente e sarebbe stato uguale alla vita dei figli, dei nipoti, dei primipoti. Cioè il fatto che non ci fossero grandi cambiamenti ti faceva sapere come avrebbero vissuto i tuoi discendenti, che è una cosa rassicurante. Oggi è impossibile sapere come vivranno i miei discendenti e i vostri discendenti perché il mondo sta cambiando in modo estremamente rapido. Voi non ve ne rendete tanto conto perché siete già nati in una fase di cambiamento, ma tutto quello che voi usate oggi non c'era quando siete nati. Una delle conseguenze è che la vita media si allungherà moltissimo, si sta già allungando moltissimo, c'è chi dice che vivremo 200 anni, chi dice che vivremo 500, non so se c'è da augurarselo, ma comunque è una delle previsioni. Arrivo alla conclusione, le tecnologie stanno cambiando il nostro modo di essere, però c'è una domanda di fondo. Tutti gli umani, tutte le persone avranno accesso a queste tecnologie? Io ho paura di no e quindi ho ipotizzato nel libro che avete visto all'inizio il fatto che ci saranno due specie, i vetero sapiens, che sono quelli che non avranno accesso alle tecnologie, ma ne saranno fortemente attratti, magari avranno tassi riproduttivi molto più alti, eccetera, e i tecno sapiens, che avranno accesso a delle tecnologie fantastiche, avranno capacità aumentate, avranno vite molto più lunghe, probabilmente si riprodurranno di meno, ma di fatto queste due specie saranno molto diverse, potranno convivere? Non lo sappiamo. Io non voglio fare, diciamo, e neanche nel libro che ho scritto, non faccio il futurologo, non mi fate domande se come sarà il futuro, non lo so, io racconto partendo dalle cose che lei vi ha scritto, quello che è avvenuto, tutto quello che ho descritto si è già verificato. Concludo con una frase che non è mia, ma è di Harari, quello scrittore che ha scritto questo libro, Sapiens, molto importante, comunque leggiamo la sua frase che dice questo. Se qualcuno vi descrive il mondo della metà del ventunesimo secolo, quindi parliamo tra trent'anni, e vi sembra fantascienza, è probabile che sia falso, ma se qualcuno vi descrive il mondo della metà del ventunesimo secolo e non vi sembra fantascienza, allora è certamente falso. Grazie. Le volevo chiedere se Levi ha scritto qualcosa che ancora non si è avverato. Sì, diciamo che è un'ottima domanda e ci sono delle cose che sono rimaste nel piano, diciamo, sicuramente fantastico ed è difficile, diciamo, poi valorizzare o quantificare cose che ovviamente sono rimaste nell'ambito del fantastico. Questo è un punto molto importante, perché quando si guarda al passato, chi scrive di fantascienza ha talmente tante idee, talmente ha tanta fantasia che ogni tanto ci azzecca, giustamente. E quindi molti dicono, sì, va bene, queste cose sono realizzate, ma tante altre non si sono realizzate. Quello che secondo me però, e lo dico con assoluta convinzione, avendo letto Levi con grande attenzione, Levi era uno scrittore di una straordinaria sensibilità ed aveva una grande passione per l'uomo. E lui queste novelle non le ha scritte come divertimento o come modo di, diciamo, di vendere libri. Lui tra l'altro il primo libro che ha scritto, Storie Naturali, l'ha pubblicato con uno pseudonimo, perché non voleva sovrapporre la immagine sua di scrittore dei campi di concentramento con quello di scrittore di novelle. Lui l'ha scritto perché in qualche modo ha voluto metterci in guardia, ha voluto, diciamo, dire attenzione perché le tecnologie sono potentissime e utili, ma hanno anche un altro lato della medaglia. Quindi sono stati scritti con una certa, diciamo, previsione di possibilità di avverarsi. Però ce ne sono anche altre che non si sono avverate, ma chissà. Allora, parlando della biostampante, quanto ci vuole per stampare un organo? Allora, mi coglio un po' impreparato. Innanzitutto dipende dal tipo di organo, perché ci sono organi molto diversi. Poi una volta che vengono diposte delle cellule, che sono quelle, diciamo, di partenza, le cellule non hanno del tempo per potersi amalgamare e riprodurre. Quindi penso che dipenda molto dalla tipologia e dalla, diciamo, natura dell'organo. Penso che ci siano comunque tempi di ore e giorni, diciamo, per la crescita di queste cose. Sicuramente, diciamo, la prima, una delle prime applicazioni di questa tecnologia sarà per non utilizzare gli animali negli esperimenti. Noi oggi usiamo molti animali perché molti nuovi farmaci devono essere testati e dobbiamo usarli sugli animali, che però sono molto diversi da noi dal punto di vista biologico. Usandolo su degli organi che invece sono fatti con cellule umane e che quindi hanno quella specificità, un fegato artificiale, la, diciamo, possibilità di verificare l'efficacia di un farmaco sarà molto più, diciamo, precisa e non richiederà il sacrificio di animali. Poi, dove in una seconda fase potranno essere anche impiantati addirittura sulle persone. Lei prima ci ha fatto vedere quell'immagine in cui viene messa a paragone le due specie ipotetiche che si verranno a creare. Quali dinamiche porteranno alla creazione di queste specie? Nel senso, si sta ipotizzando quindi una specie superiore che in un certo senso sottometterà quella inferiore? Si sta ipotizzando una realtà di questo genere? Questo è quello che volevo chiedere. Dunque, questa è una domanda molto importante, molto interessante, a cui ovviamente non ho la risposta, però il punto è questo. Già oggi, diciamo, la nostra società è abbastanza divisa tra persone che hanno accesso a delle tecnologie ed altre che non ce l'hanno. Quando si sente parlare, non so se avete sentito parlare della medicina del futuro, che si chiama medicina personalizzata o medicina di precisione, non avete mai sentito parlare, perché ovviamente noi quando andiamo dal medico oggi, lui ci prescrive un farmaco che è lo stesso che prescrive a tutti i suoi pazienti che hanno quella sintomatologia, ma in realtà potrebbe benissimo essere che quel farmaco a te non faccia niente o ti faccia male perché noi abbiamo dei complessi meccanismi al nostro interno. La medicina di precisione punta a, diciamo, curare le malattie in maniera individuale, quindi per ogni persona con una terapia specifica, solo che ha un piccolo problema. Essendo individuale, è molto costosa. E come si affronterà questo problema nei prossimi anni, non dico decenni, quindi voi ci entrerete dentro in pieno, è un tema molto serio, perché ovviamente noi siamo abituati a avere dei sistemi sanitari, e tra l'altro quello italiano è uno dei migliori che abbiamo al mondo, che sono, diciamo, pubblici e che quindi pagano per tutti. Ma se i costi diventano via via crescenti, ci sarà un problema, diciamo, di come offrire a tutti lo stesso livello di sanità. Quindi è un tema che si sposta sull'aspetto sociale ed economico, assolutamente. Ecco, visto che quando si parla di mondo scientifico bisogna anche parlare in un certo senso di mondo etico, volevo chiederle, secondo lei l'etica quanto rallenterà tale progresso? Ma complimenti, fate delle domande centratissime e importantissime. Questa è una domandona, perché ovviamente la domanda è come facciamo a far sì che le tecnologie rimangano, diciamo, positive per l'umanità e non vadano fuori controllo. Ovviamente questo è un problema etico e richiede degli strumenti di controllo etico, che Levi si già ipotizzava e pensava, diciamo, noi siamo, bene o male, siamo i fabbri di noi stessi, in qualche modo dovremo avere il controllo della situazione. È chiaro che però si sviluppa tutta una serie di problemi, nel senso che oggi noi, diciamo, come comunità, se abbiamo la possibilità di sfruttare una tecnologia lo facciamo immediatamente. E ci sono ben poche regole etiche che ci fermano, ci sarà sempre qualche uno che andrà oltre. Quindi le regole etiche serviranno e servono sempre di più. Sul fatto che avranno efficacia ho qualche dubbio, il caso che vi ho detto dello sviluppo di persone con il DNA modificato, che già viola delle regole etiche, è un esempio. E non solo, ci sono anche delle differenzazioni a livello dei paesi, ci sono dei paesi che sono molto proiettati verso degli sviluppi tecnologici, senza se e senza ma, penso soprattutto all'Asia, e civiltà che sono invece più propense a pensare al beneficio generale delle tecnologie e quindi a porre l'uomo al centro, penso un po' alle nostre civiltà, che sono invece un po' più propense a introdurre dei controlli etici, penso all'Europa. Quindi è un problema molto delicato quello che hai toccato. E di nuovo non ho una risposta, non credo che l'etica frenerà. L'etica dovrà essere imposta su una serie di condizioni e di questioni perché se no rischiamo di avere dei controeffetti che potrebbero essere abbastanza negativi. Io volevo chiedere perché l'uomo continua a lavorare e a sviluppare queste intelligenze artificiali se ha capito che verrà soppiantato dalle sue stesse creazioni. Dunque, che cosa succederà con l'intelligenza artificiale? Non è chiaro, non è ancora detto, c'è un ampio dibattito, non lo sappiamo, c'è chi dice, ci sono soltanto due visioni, diciamo, chi dice che l'intelligenza artificiale potrà superare l'intelligenza umana e se questo avverrà il problema esiste e lo hanno posto persone come Bill Gates o Egon Musk oppure anche altri grandi scienziati, quindi è un problema reale. Altri ritengono che in realtà lo sviluppo dell'intelligenza artificiale possa avvicinarsi progressivamente a quella umana ma non necessariamente raggiungerla perché lo sforzo che uno deve fare per crescere via via diventa sempre più grande. Pensate a uno che vuol saltare in alto, se uno non ha mai cominciato si allena un po', salta un metro e è contento, poi da un metro a un metro cinquanta progresso abbastanza rapido, da un metro cinquanta a un metro settanta va bene, poi via via che deve salire e springersi verso i due metri, lo sforzo che deve fare è sempre di più, l'allenamento che deve fare è sempre di più, quegli ultimi centimetri per raggiungere una certa, diciamo quota, sono faticosissimi, deve investire tantissimo, potrebbe darsi che per l'intelligenza artificiale ci sia lo stesso problema. Quindi anche qui nessuno si fermerà, l'intelligenza artificiale entrerà nella vostra esistenza molto di più di quanto l'abbia fatto nella mia e non c'è nessun dubbio. Sul fatto che quindi verranno sviluppate mettiamoci il cuore in pace, la questione è se si raggiungerà quella che si chiama appunto singolarità, che è un po' questo punto dove di fatto l'intelligenza artificiale può superare l'intelligenza umana. È una domanda aperta, per fortuna. Prima lei ha detto riguardo alla sua domanda che sarà soprattutto su un fattore economico lo sviluppo, ma questo fattore non è già presente al giorno d'oggi, pensando anche alla diversificazione tra la nostra società e quella magari negli altri continenti, per dire l'Africa fra tutti. Cioè non può essere vista quasi come una degenerazione della situazione attuale, cioè con tecnologie sempre migliori e lasciando sempre indietro continenti o stati in cui invece sono ancora molto arretrati? No, certamente, è esattamente così la situazione. Cioè già oggi ci sono delle differenze sociali molto importanti. Le tecnologie hanno modificato da sempre le società e le hanno modificate creando tutta una serie di cose, anche le stratificazioni, quindi in strati sociali diversi. Non c'è nessun dubbio, e non c'è nessun dubbio che c'è una differenziazione a livello globale, dove ci sono delle popolazioni che hanno più accesso alle tecnologie già oggi e altre che ce l'hanno di meno. Quindi questa cosa però secondo me andrà a, diciamo, crescere. E sul fatto che le disuguaglianze stiano crescendo e non diminuendo, anche qui non è che lo dico io, ci sono, diciamo, vari studi che stanno indicando che si va verso questa, diciamo, dimensione. Questo è uno dei temi su cui, bene o male, le nostre società dovranno fare delle riflessioni, dovranno trovare delle contromisure, perché è un problema, diciamo, che non è più un problema di tecnologie, è un problema appunto di società nel suo complesso. Quindi assolutamente d'accordo. Allora, sapevo che c'è chi ritiene che si sta rallentando la clonazione umana proprio per evitare il sorgere di problemi etici. Lei pensa che questo sia possibile? Allora, dal punto di vista, quanto ne so, la clonazione umana, ci sono degli istituti che dicono che sono in grado di farla oggi, tecnicamente, ma non lo fanno perché eticamente non è consentito. Le regole etiche qua sono ancora, diciamo... E poi non è chiaro il vantaggio, ok? Ci sono però delle società, soprattutto in Cina, che offrono la clonazione, per esempio, del cane. Se uno ha un cagnolino a cui è molto affezionato, e il cagnolino prima o poi muore, si può far clonare e quindi con 100.000 dollari ti fanno una copia identica del tuo cagnolino che avevi prima. Ecco che questo qui è una cosa che è già reale. È etico, non è etico. Anche, diciamo, tutte queste cose, vedete, ci sono degli... Rompendo delle frontiere su cui l'uomo non ha mai ragionato, non ha mai riflettuto, si aprono anche tutta una serie di interrogativi a livello etico. Sull'uomo, per adesso non ho letto nessuno che intenda clonare un uomo perché, boh, cioè, a parte che è vietato, diciamo, ma non se ne vedono bene i vantaggi. Ecco, probabilmente è uno degli aspetti. Lei pensa che con il progresso scientifico e la sempre più grande comprensione del mondo che ci circonda, un domani si potrebbe abbandonare totalmente la religione? Dunque, questa domanda è una domanda... Sì, ovviamente la religione dà delle risposte non di tipo razionale a dei problemi che noi abbiamo come esseri umani, cioè delle domande a cui non sappiamo dare risposta, perché siamo qui, da dove veniamo, cosa si sarà dopo di noi. A queste risposte la scienza continuerà a non dare risposta, perché è oggettivamente difficile dire che cosa si sarà se noi continueremo a esistere, eccetera. E' chiaro che le conoscenze scientifiche che hanno prodotto dei cambiamenti in meglio enormi nella vita, non c'è dubbio, hanno anche prodotto tutta una serie di prese di coscienza. Sappiamo da dove veniamo, sappiamo la nostra storia, sappiamo la nostra età. Ci sono delle religioni che negano tutto questo in maniera del tutto tranquilla. D'altra parte siamo in un mondo dove ieri o ieri l'altro a Milano c'era un convegno di gente che è convinta che la Terra sia piatta. E quindi, diciamo, ci sono, di fronte alle evidenze, comunque ci sarà sempre della gente che vorrà avere delle credenze. E tanto più la scienza darà delle risposte concrete, tanto più ho l'impressione che molte persone si rifugieranno in credenze per trovare qualche rassicurazione o sottrarsi a questo tipo di diciamo di razionalizzazione della natura. Ma è una risposta emotiva, è una risposta, diciamo, non razionale. Mi chiedevo, nel mondo scientifico chi è che appunto stabilisce quelli che sono i principi etici? Domanda molto importante. Io non penso che queste questioni che hanno una rilevanza sociale così grande possano essere lasciate alle decisioni dei ricercatori e degli scienziati. Perché il ricercatore o lo scienziato è appassionato del suo lavoro e vuole andare avanti, vuole andare finché può vedere una strada aperta, lo fa. Se ci devono essere delle regolamentazioni o devono essere dei controlli, è la società che deve farlo. Infatti io qui, diciamo, ci vogliono le tre C. Conoscenza, che è la cosa che state facendo voi qui oggi, cioè cercando di acquisire degli elementi di conoscenza. consapevolezza, quindi sapere che cosa vuol dire, che cosa ci aspetta, diciamo, e controllo. Controllo vuol dire una volta che siamo coscienti e consapevoli possiamo cercare di controllare quello che avviene. Ma questo lo devono fare le società, cioè quindi, ahimè, dovrebbe farlo la politica. Vi faccio un esempio su come le cose vanno in maniera tale che la politica ormai è sempre in ritardo. Non dico quella italiana che è in letargo, ma diciamo in genere la politica. Parliamo del fatto che negli ultimi dieci anni, grazie a delle app gratuite che noi abbiamo dato, o abbiamo scaricato, diciamo, sui vari dispositivi elettronici, abbiamo dato tanti dei nostri dati nelle mani di alcune società private che oggi valgono cifre colossali in borsa, non perché abbiano dei impianti particolarmente costosi anche, ma perché hanno dei dati, hanno i nostri dati. E questi dati sono stati dati gratuitamente senza che nessuno mettesse dei controlli. Sarebbe compito della politica in qualche modo evitare che queste cose accadano. E quindi, anche sulle tecnologie di cui abbiamo parlato, non possiamo lasciare che siano gli scienziati soli a decidere. Sì, riguardo al fatto della clonazione dell'animale domestico, lei non pensa che sia un modo per negare la morte, che eppure a noi sembra qualcosa di imminente, a lungo andare pensa che toglierà valore alla vita come essenza, insomma. Sì, questa è un'altra grande domanda, siete bravissimi, veramente, questa è una domanda da classico però, all'elettrofattore lo scientifico. Questa è una domanda molto importante, diciamo, l'uomo è tra tutte le specie animali l'unica che ha la consapevolezza che dovrà morire, cioè che quindi ha un'esistenza finita. Ed è chiaro che noi, bene o male, non ci piace questa idea, e quindi tutte le volte che possiamo, diciamo, cercare di schivarla in qualche misura lo facciamo. Quindi è chiaro che ricreare un ambiente che sia sempre lo stesso, che quindi abbia gli stessi legami, eccetera, è un modo di rassicurarci da questo destino e anche tutta la corsa, diciamo, alle tecnologie, alla fine, a quello mira, alla fine, a quello, diciamo, puntiamo, a diventare immortali. Ecco, c'è questo libro di Harari che, diciamo, dopo aver scritto Sapiens scritto Homo Deus, ha questo concetto di fondo. Il concetto di fondo è che, appunto, adesso supera, perché dovete pensare che l'esistenza dei nostri avi è stata tremendamente diversa dalla nostra. Cioè, si moriva di malattie, di piaghe, diciamo, di peste, ma quando ci arrivavano le pestilenze, un terzo, un quinto, un quarto, metà della popolazione moriva. La spagnola, la famosa influenza spagnola ha fatto negli anni 18-20 più morti di tutta la Prima Guerra Mondiale, 60 milioni di morti. Quindi c'erano le piaghe, c'erano le carestie, le carestie arrivavano periodicamente e facevano stragi tra la gente, la gente moriva di fame. E poi c'erano le guerre. Le guerre era l'altro regolatore, di fatto, della popolazione umana. Anche lì le stragi erano, diciamo, sconfinate. In qualche misura queste, diciamo, piaghe dell'umanità sono state messe sotto controllo. non è che non ci siano più, ma sono molto più controllate. L'uomo adesso a che cosa punta? Inconsapevolmente, all'immortalità. Questo è, diciamo, il grande tema. Il titolo del mio libro, non l'ho detto, l'ho chiamato l'ultimo sapiens, non perché noi andiamo a sparire come specie, assolutamente no, ma andiamo a trasformarci in qualcosa di diverso. E diverso non vuol dire meglio, non vuol dire peggio, vuol dire diverso. Quello che oggi si comincia a vedere anche un po' sulla Stame si parla di ibridi. Ibridi tra, diciamo, viventi, come li conosciamo, e tecnologie impiantate, innestate, è cosa su cui siamo molto più vicini di quello che non si pensi. Quindi, domanda molto, molto importante. Grazie. Le volevo chiedere se secondo lei diciamo che l'avanzamento della tecnologia possa essere un regresso o un degresso della società umana. Cioè, mi spiego meglio, in quanto la scienza ora prova che l'eccessivo uso della tecnologia possa portare, diciamo, danni sia a livello cerebrale che è anche un distaccamento dei rapporti sociali e morali comunque del... Anche questa è una bellissima domanda. Allora, innanzitutto, se io vi racconto una storia, diciamo, la BBC, sapete, la tv inglese, ha fatto, qualche tempo fa, ha fatto uno sceneggiato, una specie di reality, si chiama. Ma come ha pensato questo reality? Perché sono molto intelligenti, la BBC. Hanno fatto, diciamo, scelto delle famiglie che ci sono, diciamo, offerte, di vivere esattamente come si viveva nell'età vittoriana a Londra, cioè fine Ottocento. Tre tipi di famiglie, lower class, cioè di fatto proletariato, middle class, diciamo, quello che sarebbe la media borghesia, e upper class, cioè di fatto famiglie nobili. Gli hanno messi, però il contratto era, se accentate questo, dovete vivere in quelle condizioni per un mese. È stata un'esperienza devastante, non solo per quelle della lower class o della middle class, ma anche quelle dell'upper class, perché hanno dovuto vivere senza l'acqua calda, senza il sapone, senza il dentifricio, senza la musica, cioè senza tutta una serie di cose che noi oggi diamo per scontato e che in cento anni hanno cambiato le nostre vite. Massaggio, le tecnologie hanno cambiato enormemente in meglio la vita dell'uomo e si presume che continueranno a farlo. Quindi da questo punto di vista, però, qui arriviamo alla domanda filosofica, noi guardiamo sempre al bene materiale, cioè noi miglioriamo il nostro bene materiale. Domanda, ma siamo più felici dell'uomo che andava in giro per la savana a raccogliere le bacche o a catturare le lepri? Su questa domanda ci si comincia a fare, su questa domanda, si cominciano appunto a porre dei quesiti, non è mica detto, cioè che noi siamo veramente più felici, abbiamo tante tecnologie, abbiamo tante diciamo cose a disposizione, ma queste puntano sempre un benessere materiale, non necessariamente un benessere morale e, questo non lo dico io, quando l'uomo ha cominciato a creare le società e l'agricoltura stanziale, sono nate le società stratificate, sono nati i re e le regine e da quel momento lì la gran parte dell'umanità ha vissuto una vita scusate, di merda, cioè ha vissuto una vita tremenda, una vita di fatto di sopprusi, una vita, quindi la gran parte dell'umanità dalla civilizzazione non c'è mica tratto dei grandi benefici, adesso le cose sono migliorate sul piano diciamo materiale, ma su quello appunto del benessere personale siamo ancora lì che ne stiamo parlando, quindi grandi temi a cui mi fate domande e a cui non so rispondere. Con questo mi sembra che abbiamo avuto una ottima discussione, vi ringrazio, siete stati avventori scientifico. Grazie. Grazie.